Siamo qui con i membri, essa e quindi principalmente alla logica che ha animato l'attività di evangelizzazione del Cardinale Martini, della sua testimonianza della prossimità e della misericordia di Dio. È un atto di giustizia, una fraternità pedituale. Si tratta di imitare sull'iniziativa in modo pedissimo. Ma, quell'anno, i nomi di elettori che, no, è la nipote di quelli bravi costa che io. Sì, 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 loro sì, loro erano nipote.